Assessore Patanè, la qualità dell'aria è molto importante per tutti noi, sta partendo una campagna per monitorare l'ossido di azoto? Sì, perché noi come città di Roma siamo uno dei siti più inquinati d'Italia, anzi uno dei 12 siti responsabili delle condanne che l'Europa ci ha inflitto per il superamento delle PM10 e delle NOx. Il biossido di azoto è uno dei principali responsabili delle più comuni malattie che noi abbiamo, dell'apparato respiratorio, malattie cardiache e quant'altro e abbiamo il dovere di monitorarlo. Questa campagna dei cittadini per l'aria che il Comune di Roma ha abbracciato è molto importante perché tende a fare una ricerca condivisa e collettiva, diffusa tra tutti i cittadini, che acquistando questo campionatore possono, posizionandolo nelle loro case, contribuire a verificare quali sono i livelli di NOx, di NO2, che noi abbiamo nell'aria e nella nostra città. Ecco perché vogliamo che quanti più cittadini possibili possano prendere questo campionatore, posizionarlo nelle loro case e contribuire alla ricerca di tutti quanti noi dell'aria che respiriamo e delle misure che noi possiamo prendere per contrastare questo eccesso di limiti di NO2 nell'aria di Roma. Grazie Assessore. Grazie a voi.